Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! Dai! Per quello che riguarda soprattutto l'evento di questa season numero 10, l'evento che arriverà ovviamente domenica alle ore 21 sembrerebbe ma vi dirà ovviamente con precisione quando sarà, ne parleremo sabato senza problemi. Nel video di oggi ragazzi parleremo delle nuove voci del visitatore, sì perché sono state inserite altre due registrazioni che lasciano un pochettino capire qualcosa di più per quello che succederà in questo termine di season. Vedremo però anche alcune modifiche fatte al Baobross, una delle skin più vecchie inserite in Fortnite e mai rilasciate ufficialmente. Non mancheremo anche però di dirvi, di dirvi, io vi dirò alcune skin che arriveranno nel nuovo Fortnite, quello in poche parole che vivremo durante la season numero 11. Volevo prima però ringraziare tutti i ragazzi che mi seguono ogni giorno in diretta su Twitch e grazie anche a tutti i ragazzi che utilizzano il codice creator XIUDERONE. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi ai canali e soprattutto non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però la domandina ve la devo fare, ve la devo fare, ieri mi avete risposto in tantissimi, mi avete detto i vostri tasti che utilizzate per selezionare le armi. Oggi vi faccio una domanda un po' diversa, ma te che veicolo vorresti nella nuova stagione di Fortnite? Eh sì perché ragazzi se la season numero 10 è stata la stagione degli spammoni è anche vero che è stata la season con meno veicoli in assoluto. In fondo a parte il driftboard non abbiamo altro per spostarci nella mappa. Io personalmente vorrei una roba del genere, mi piacerebbe un sacco un elicotterino biposto, tanta tanta roba che magari non si alza neanche così tanto in cielo, che non può andare contro le strutture ma che secondo me sarebbe molto molto divertente da giocare in questa season 11. Chi lo sa se rimarrà semplicemente un concept o invece potrebbe diventare qualcosa di vero. Ma quindi, ciancia levante! E bando alle ciance andiamo subito subito a vedere le modifiche fatte al Baobross. Chi è il Baobross? Magari non lo conoscete, ma nella season 7 venne inserita questa skin epica con tanto di deltaplano e piccone mai rilasciata. Come vedete la testa è identica al raviolone gigante che c'è ad Approdo Avventurato. Infatti pensavamo che inserendo la nuova location ad Approdo, il nuovo ristorante, sarebbe stata rilasciata anche la skin. Così non è stato. Allora arrivò il giorno, dopo qualche mese, il Bao Day, che sarebbe proprio il giorno del raviolo al vapore giapponese, ma anche in quell'occasione non fu rilasciata. Ieri hanno inserito delle modifiche. Come vedete le quattro schine adesso si vedono benissimo e ognuna ha appunto la sua unicità. Unicità. Staremo a vedere se per caso nella season 11 magari faranno parte o del pass battaglia, anche se lo ritengo un po' impossibile, o magari verranno rilasciate. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi e parliamo di un evento che tutti stiamo aspettando. Io personalmente lo vivo davvero alla grande. Sto parlando del Fort Nightmares ragazzi. L'evento di Halloween la scorsa volta, quindi il Fort Nightmares 2018, fu meraviglioso in quanto tutta la mappa venne piano piano modificata partendo da Palmetto Paradisiaco fino a poi a modificare le case a Parco Pacifico. Allora mi sembra ci fu anche passatempi pomposi. Insomma tante siti e ovviamente arrivò lo Skull Trooper e la Falce, non la Ghoul. Però abbiamo delle skin che sono state trovate nei file di gioco e che probabilmente faranno parte appunto di questo evento di Halloween. Sappiamo solo i nomi per il momento e saranno Skull Trooper Neon, Maschio, Gangster Monster, Maschio, Ghoul Trooper, Maschio, quindi la versione maschile della Ghoul Trooper, Cuddle Team Dark, dovrebbe essere una versione di Halloween nuova dell'orsacchiotto. The Dark One, Maschio, Slurp Creature, Maschio, Wraith, Femmina, Pale Spooky, Femmina e Modern Witch, Femmina. Un bel set di skin per Halloween. Tra l'altro potrebbero anche riuscire quelle dell'anno scorso, il Jack Gordon, l'uomo della zucca, Cervello Filo, il Panda versione Halloween. Insomma ragazzi, tante cose, tante skin. Preparatevi Bucks perché sono veramente molto molto belle le skin a tema Halloween. E andiamo avanti con il prossimo argomento. Parliamo di qualcosa scoperto appunto da poche ore. Un tweet dice, sembrerebbe che al termine del countdown, quindi il cronometro che c'è in questo momento nelle televisioni e al centro della mappa, quindi dove ci sono i tre magazzini, le televisioni mostreranno un file mp4. Perché viene detta questa cosa? Perché qualcuno ha scoperto che al momento del countdown azzerato, qualcuno è riuscito già ad arrivare con il countdown a zero, le televisioni mostrano uno schermo completamente rosso. Uno schermo completamente rosso potrebbe stare a significare appunto la riproduzione di un file mp4. Non si sa ovviamente quale possa essere, è scontato che sicuramente c'entrerà o il razzo o magari proprio direttamente un messaggio del visitatore ed è molto probabile che questo messaggio sia tradotto in più lingue. Tra l'altro, nel video di ieri avevamo ascoltato il suono, la voce del visitatore in italiano, il primo pezzo. Purtroppo non sono ancora state trovate le altre parti in italiano, ma voglio farvele comunque sentire in inglese, se magari qualcuno di voi ci riesce a capire qualcosa di più. Ve le faccio ascoltare. Lo che ci stiamo cercando è molto rischiato. Mi rispetto a loro non sono i soli che guardano, ma deve essere fatto o che perdere la ponte per sempre. Mi specchio che nessuno calcolta la formazione dell'isola, che interdimensionali collisioni di matter interdimensionali risolveri invece di spettare. Ora che ho vissato la prima volta, è ovvio che il pincio solo è fatto inevitabile. Quando ho sentito questo di nuovo, mi aiuterà a me ricordare? Quando ho sentito lupato, mi sarò proprio così mutato come gli altri. Non importa, mi sembra che le precauzioni lunghe funzionavano. Il theorem proclastico era un successo. Io, noi, tu, hai arrivato fuori dal lupo all'esatto momento dell'espansione. Questo effettivamente pausa la singularità, dando noi tempo per creare i dispositivi che necessitano di sincronizzare la junzione. Non lo so ragazzi, qualcuno si è riuscito a tradurlo e mi faccia il piacere di dire quello che dice correttamente il visitatore. Ci aspettiamo ovviamente anche le registrazioni in italiano. Insomma ragazzi, oramai ci siamo. Tra l'altro, aspettiamo anche nel pomeriggio di oggi il primo teaser. Nella season 10 e nella season 9, se non ricordo mai i teaser sono stati 3. Quindi avrebbe senso che oggi intorno alle 16 venga rilasciato il primo teaser. Anche se alcuni dicono che probabilmente questa season non ne avrà. Io non lo so, lo aspetterò insieme a voi, lo caricherò su Instagram e magari ci faccio anche un breve video su YouTube. Per adesso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi ai canali, noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao! Ciao!